Prego, Assessore Leandro. Siamo arrivati a un accordo, pertanto ci sarà il sostegno nella prestazione di servizi per la festa patronale. Per questo abbiamo già definito la situazione e l'amministrazione non ha mai negato l'importanza della festa patronale, per cui la nostra importanza è dimostrare anche la coerenza di quello che è sempre stato detto. Quindi sosteniamo la festa patronale con dei servizi e proprio oggi abbiamo definito la questione. Tutto qui, grazie.